A.C.T.A.C.T.O.I. A.C.T.O.I. A.C.O.I. A.C.T.O.I. A.C.T.O.I e sem capire tempo sem capire tempo e poterti e vedo il ciao e potuto adesso no il mondo se l'allarga un pochettino per un pochettino, allora, facciamo click join, ok, so che comunque dovrei imparare un pochettino per giocare l'eventus, però ho già fatto un po' e penso di fare qualcosa di più meglio, almeno spero, spero, spero eh, diciamo che uscirà una versione con il segno di hit launch, poi hit launch lo si fa vedere che potrebbero usare nel mio skin, adesso iniziamo, allora ci abbiamo andato tutto, oggi mi stiamo portendo tutto, ok, 4, facciamo 8, 7, e ho sciolto, ora facciamo, ok, spegniamo il letto, se qua se mi fa così, io non posso, allora si è venuto sembra non so se venuto non mi ha bisogno una aveva un va più gadget grano vorrei quando avrei quando avrei un connesso leggere ci vendiamo in basso ciao prego per niente allora vedremo ragazzi domani ho scoperto una modalità di robos e anche l'episodio cosa stai facendo Non sta facendo niente questo, non sta facendo niente, almeno adesso ho visto qualcosa, uno sta fastibilitando, uno sta fastibilitando, però non so fastibilitare molto bene, solo su PS ho un po' fastibilitare. Qua c'è il buio, vediamo se non sta male, però, sì, però allora, dovete fare più lungo, perché se no, più lungo. Non è un po' che mi ha fatto, non è solo chi, però se è lag, come è che si, non è, non è, rispondi, 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 rispondi. E io non sono proprio bravo, molto bravo nell'Evendor, quindi vorrei fare un po' stifo anche nelle altre robe. Allora, siamo qua, ci vediamo altri blocchi. E invece è al listen Montanova... Un po' che c'è del tele, come? Come? Come c'è di altri? Cosa è successo? Sì, non è, sì. Dell'Alex lì. E sai che c'è se non voi avverete ai susceptible per andare la blocchia, una vera per qualcosa che sia io, direi che rispondi. e se va a bollar no va che sarà no va che sarà però lo serve la pompa quindi devo facciamo e poi facciamo un po di che non si può fare non mi può fare vai volto un po' per il sile vai volto su vai volto ms ok 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 voi non no non o o o e o è non c'è mai il build button scato invece c'è una piccola stai facciamo facciamo una piccola skyros e poi si riconosce facciamo velocemente il join eh sennò stiamo andando io ho dei io ho dei imparare a mettere in slot più facilmente il mio inventario solo che non so come fare non ho capito come fare però così ho messo una filatezza è meglio per l'inferno penso sono proprio forte e i combattimenti non sono fortissimi ecco lo ricordo ci sono due alex ho schifato vedete ragazzi ci proviamo oh eh si proda dietro no proda dietro no eh proda dietro no ci vediamo domani in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.